Il nuovo colleno provinciale in vista qui a Penne, le prime impressioni quali sono? Questa visita che ho voluto fare qui al Comune di Penne al Sindaco rientra in quel concetto che io spesso ribadisco, cioè stare al fianco dei sindaci e quindi essendo qua venuto anche a visitare il locale comando di compagnia mi sembrava doveroso anche incontrare nel municipio, in municipio il Sindaco. L'area Vestina sta vivendo dei momenti non troppo belli, specialmente quando riguarda i furti, che cosa si può fare di più? Si può fare, intanto diciamo anche che questo tipo di realtà in me non è una realtà tipicamente attribuibile alla sola area Vestina, è un fenomeno che riguarda gran parte del territorio nazionale, quindi non è che l'area Vestina in questo momento vive una situazione di eccezionalità rispetto al resto del territorio nazionale. Quello che si può fare è innanzitutto attuare anche dei minimi accorgimenti di attenzione, cercare di essere il meno possibile esposti a questo tipo di reato che è odioso, ce ne rendiamo conto e per quanto ci riguarda io come mia intenzione è quella di cercare di intensificare ancor più il dispositivo sul territorio rispetto a quello che è attualmente. Ho notato subito un'estrema disponibilità da parte del signor Colonnello, così anche a dedicarci un attimo di tempo oggi, anche se magari la visita del signor Colonnello era in programma soltanto nella locale Compagnia dei Carabinieri. La presenza oggi a Penne già dimostra una particolare attenzione a questo territorio.